Allora, undicesima edizione e questa è già una grande cosa. Poi quest'anno abbiamo principalmente spinto sul cinema italiano, sulle commedie di successo dell'anno, sui nostri attori, su un cinema di divertimento e riflessione sul cinema italiano. È una cosa che mi fa molto piacere perché non avendo lo schermo, non avendo il cinema, ma Lampedusa per loro è sempre, come dice la nostra direttrice artistica, Laura Delicogli, è una festa. Poi a me fa piacere perché vedere questa piazza sempre piena e sentire anche i turisti dirmi ma guarda Massimo, questa è un'iniziativa che ci piace molto perché piace a tutti l'arena cinematografica, anche perché abbiamo visto che stanno proliferando di nuovo l'arena in tutti i posti di vacanza, perché è una cosa, diciamo, antica ma tradizionale e che ti dà sensazioni che ormai è difficile ricreare in una multisala dove magari gli schermi sono piccoli, dove prevalgono magari i popcorn, che sono veramente fiero di aver praticamente cresciuto e fatto amare anche altre generazioni di ragazzi il lavoro che abbiamo fatto con gli studenti del liceo di Lampedusa, il Pirandello. Ogni anno sempre di più li vedo partecipi, entusiasti di questa iniziativa. Il nostro professor Spagnoletti fa le sue lezioni, vedono i film insieme, ne discutono e sono felici di esserci. Negli anni scorsi per esempio i ragazzi vedono solo i film nella casetta del cinema di Rai Cinema, donata da Rai Cinema a Lampedusa e basta, adesso li vedi in piazza comunque a guardarsi fino a tarda sera gli altri film anche quelli non in concorso e questa a me è una cosa che mi riempie di grande soddisfazione.